Se per gli eredi delle vittime della strage nazista di Civitella in Val di Chiane è arrivato il primo sere di esarcimento, per le eccidio nel Bosco dei Limmari, nella frazione Pietranzieri di Roccaraso, c'è da aspettare che passi in giudicato la sentenza emessa nel 2017 dal Tribunale di Sulmona. A farlo sapere è l'avvocato Lucio Olivieri che ha seguito tutta la trafila giudiziaria per conto di alcuni parenti delle vittime. Per accedere a fondo la sentenza deve passare in giudicato, in questo caso parliamo di un definitivo solo parziale perché sono rimaste scoperte le posizioni di alcuni eredi. Precettivamente la Corte di Cassazione ha richiamato la competenza della Corte d'Appello, ha ricordato il legale, secondo il quale ci vorranno almeno tre mesi per avviare l'iter. La Corte intanto ha fissato l'udienza per il prossimo 23 maggio, ma non sarà quella decisiva. In autunno si potranno compilare moduli e accedere a fondo di 61 milioni fino al 2026. L'eccidio di Pietranzieri costò la vita a 128 civili inermi che il 21 novembre del 1943 fuori truscidati nel Bosco dei Limmeri dai soldati nazisti per il sospetto che la popolazione civile sostenesse i partigiani. A Pietranzieri morirono 60 donne e 34 bambini con meno di 10 anni, molti anziani. Nel 2017 il Tribunale di Sulmona aveva condannato la Germania a risarcimento di 1.600.000 euro nei confronti del comune di Roccaraso e di circa 5 milioni di avversari agli eredi delle vittime dell'eccidio. Nella piccola frazione di Roccaraso c'è ancora una sopestile di quell'orrore, Virginia Maciarelli che oggi ha 87 anni.